Dopo oltre due settimane di letargo, ecco che domani torna finalmente in campo la Serie C con il Piacenza Calcio, che farà gli onori di casa nell'anticipo delle 14.30, ospitando la Dinamitar da Olbia. I biancorossi però si presenteranno al Garelli, forti di un look completamente nuovo grazie a tre acquisti di gran qualità e con tutte le intenzioni di lasciarsi definitivamente alle spalle una prima parte del campionato sottotono. Pesenti, Togordo, adesso anche Corradi, la roda è stata ritoccata a dovere, dove può arrivare adesso questo Piacenza? Questo Piacenza deve innanzitutto cercare di risalire e partire bene domani, una partita fondamentale di ripresa. Inizio di una settimana dove ne avremo tre, è chiaro che questi acquisti sono molto importanti, ci daranno sicuramente una grande mano per risalire in una classifica che ha bisogno di punti. Che voto dai alla società per il mercato? Ha fatto un grandissimo mercato, soprattutto sono stati bravi ad andare a prendere giocatori che avevamo già nel Mierino da tempo, quindi non giocatori a caso, scelti all'ultimo momento, ma giocatori che già da tempo avevamo o volevamo. Domani si ritorna in campo dopo la sosta, può essere l'inizio magari di un nuovo campionato, forse del vero campionato del Piacenza Calcio? Ce l'auguriamo tutti, sicuramente domani siamo ancora un po' in emergenza, perché tra squalifiche e qualche infortunio credo che possa essere l'inizio di un nuovo campionato, sicuramente saremo molto completo, avremo una squadra completa, una squadra forte, con tanti cambi importanti. Quali sono gli elementi che temi maggiormente agli avversari? Sicuramente balzano l'occhio i due attaccanti, perché hanno segnato 20 dei 26 gol, mi sembra, della squadra. Veramente sono in uno stato di forma eccezionale, ha fatto un giorno d'andata incredibile, però è una squadra ordinata, squadra tecnica, che gioca molto la palla, e se ti prendi in mezzo a questo giropalla, a questa circolazione, è una squadra difficile. Pierede è un altro ottimo giocatore centrocampista, ma ne hanno tanti e tutti validi. In due parole, è importante domani vincere perché? Per tutto.